Nei giorni scorsi una rappresentanza del movimento Caltanissetta antirazzista è stata ricevuta dal sindaco Ruvolo per trovare soluzioni in merito all'iscrizione nei registri anagrafici del comune delle persone che a seguito del decreto Salvini non possono più utilizzare il permesso di soggiorno come titolo per l'iscrizione. Nella nota inviata agli organi di informazione si legge che è stato consegnato al sindaco un documento nel quale una soluzione proposta è quella di utilizzare il cosiddetto modello C3 che comprova la regolarità del soggiorno dei richiedenti la protezione internazionale ed è rilasciato dalla questura a seguito dell'identificazione effettuata. In subordine, si legge ancora, potrebbe essere utilizzato lo schedario della popolazione temporanea. Il sindaco Ruvolo ha assicurato che sottoporrà il documento al vaglio degli organi competenti per un primo esame, volto anche a fugare alcuni dubbi posti dalla dirigente e dal personale e che al più presto convocherà una conferenza dei servizi specifica per definire la questione e alla quale sarà invitata una rappresentanza di Caltanissetta antirazzista. Grazie per la visione!